Buongiorno a tutti, sono Andrea Spinazzola e oggi vedremo alcuni degli strumenti di deformazione presenti in Adobe Illustrator CS4. Quella che vedete è una semplice illustrazione creata per un flyer, quindi una comunicazione pubblicitaria per un evento. Come vedete abbiamo anche un contenuto, quindi dei testi, con un trattamento particolare, quindi in formati diversi, con orientamenti diversi, in alcuni casi anche deformati. Vi faccio però notare che questi testi sono comunque editabili. Con lo strumento di testo è possibile infatti selezionare e modificare ad esempio la data. Perché vi faccio notare questa cosa? Perché le deformazioni che andremo a applicare sono molto invasive, cioè ovvero deformeranno in maniera molto estrema il testo, però rientrano queste deformazioni all'interno della logica dei live effects, cioè di quegli effetti vivi, tra virgolette, fino alla fine, ovvero sempre editabili, non distruttivi, che ci permetteranno quindi di modificare il contenuto anche a deformazione effettuata, quindi anche dopo aver effettuato la deformazione. Ora per praticità io ho raggruppato tutti quanti i testi e iniziamo a vedere le prime deformazioni. Quindi dal menu oggetto, distorsione, involucro, abbiamo tre tipi di deformazione o distorsione con l'involucro, quindi con altera, con trama e con oggetto in primo piano. Iniziamo con altera. La deformazione con altera è molto simile all'effetto di deformazione con altera, con una particolarità però in più. Quindi attiviamo l'anteprima, come vedete è possibile utilizzare gli stili di deformazione presenti nel menu e appunto andare a deformare il contenuto. La cosa interessante è che oltre a deformare sulla orizzontale, quindi possiamo variare la deformazione sull'asse orizzontale e sull'asse verticale, quindi creare un ulteriore dinamismo alla nostra deformazione. Ora torniamo alla deformazione ad arcata, ad esempio, riportiamo i valori a zero, ecco, mettiamo un pochettino la curva, vi faccio vedere questa cosa perché adesso quando clicchiamo ok Illustrator ha creato una sorta di involucro appunto intorno all'oggetto e con lo strumento di selezione diretta sarà possibile andare a intervenire su questi punti di ancoraggio che non sono i punti di ancoraggio del testo ma dell'involucro. Quindi modificando l'involucro anche il testo viene modificato, quindi viene deformato. Questa è una cosa interessante perché io posso partire da una deformazione altera predefinita e andarla poi a personalizzare in funzione del mio disegno o comunque delle forme che sto cercando di ricreare. Benissimo. Ora vi faccio subito vedere il concetto di editabilità, quindi ritorniamo sullo strumento di selezione, deselezioniamo e riselezioniamo, vi faccio notare come nel pannello di controllo in questa posizione abbiamo l'indicazione involucro con altera e in questo momento è attivato il pulsante modifica involucro, ovvero tutte le modifiche che andremo a fare saranno applicate all'involucro. Se però dovessimo modificare il testo è possibile, come vedete, cliccare su modifica il contenuto. Torniamo quindi indietro, scegliamo lo strumento di selezione del testo e, come visto in precedenza, andiamo a modificare il contenuto. Come vedete, modifico il contenuto ma la deformazione rimane, quindi il nuovo contenuto verrà deformato seguendo l'involucro. Torniamo sempre sullo strumento di selezione, adesso annulliamo, quindi ritorniamo alla situazione di partenza, vediamo un altro metodo di deformazione, sempre sul menu oggetto, distorsione involucro, con trama. La logica è esattamente la stessa, in questo caso però Illustrator si limita a creare una trama, ovvero una serie di righe e colonne con dei punti di ancoraggio che si generano dalle righe e dalle colonne, possiamo aumentarne anche il numero, però per ora teniamoci su dei valori di quattro righe e quattro colonne, clicchiamo su OK. Anche in questo caso Illustrator ha creato un involucro, quindi prendiamo lo strumento di selezione diretta e andiamo a modificare i punti di ancoraggio dell'involucro e cerchiamo ad esempio di adattarlo alla sagoma, non so, alla forma dell'occhio presente nell'illustrazione. Eccoci qua. Poi possiamo andare avanti, insomma esagerare, cercando di far seguire, di far coincidere la forma del testo con la forma dell'illustrazione. Come vedete l'effetto che si crea è molto bello perché si passa da un'impaginazione classica, diciamo, a un'impaginazione molto più creativa, pur mantenendo la leggibilità, ecco questo fate sempre attenzione, a non perdere mai di vista la leggibilità del contenuto, quindi dei testi, e senza mai perdere l'editabilità, cioè la possibilità di tornare indietro e andare a modificare. Ancora una volta, con lo strumento di selezione, deselezioniamo e riselezioniamo l'oggetto e andiamo a modificare il contenuto. C'è un'altra opzione per modificare il contenuto ancora più semplice, ovvero fare due volte click all'interno dell'oggetto. In questo modo si entra nella modalità isolamento, come tutto quanto il resto della grafica viene abbassato di intensità, e quindi con lo strumento di testo è possibile ancora una volta andare a modificare il contenuto, pur mantenendo la deformazione. Per uscire dalla modalità isolamento, facciamo due volte click in una zona dove non ci sono oggetti nel documento, oppure, adesso spostiamo il pannello degli strumenti, torniamo indietro, quindi clicchiamo sul livello successivo e con la freccia ritorniamo alla, diciamo, la modalità standard. Annulliamo ancora le modifiche effettuate e vediamo un altro metodo di deformazione. Per fare questo ho creato in precedenza una sagoma, una forma. L'unica condizione che deve essere rispettata è che questa forma si venga a trovare al di sopra dell'oggetto da deformare. Ora, in questo caso, io mi sono avvantaggiato perché ho disposto questa forma su un livello quindi posizionato al di sopra del resto della grafica. In caso contrario, assicuratevi con il menu oggetto ordina porta in primo piano. In questo modo la sagoma, diciamo, sarà sempre in primo piano rispetto al resto dell'oggetto. Fatto questo, possiamo selezionare tutti gli oggetti che dovranno essere deformati. In questo caso voglio deformare anche il polipo. Quindi selezioniamo, facciamo una selezione completa sia l'oggetto che la sagoma. Dal menu oggetto distorsione involucro crea con oggetto in primo piano. Come vedete la forma dell'oggetto azzurro è servita per deformare tutta la mia composizione. Quindi non soltanto i testi ma anche la forma appunto del polipo. torniamo ancora indietro e vediamo degli strumenti che ci permettono di intervenire direttamente quindi manualmente sugli oggetti. Magari ci sarà un'occasione per vederli in maniera più approfondita nei prossimi tutorial. Faccio riferimento allo strumento altera. Adesso zoomiamo così è possibile vederlo meglio. Lo strumento altera come molti altri strumenti di Illustrator ne contiene appunto altri che seguono sostanzialmente la stessa logica ovvero abbiamo lo strumento vortice risucchio gonfiamento strumento smerlo cristallizza e ruga. Per ora limitiamoci allo strumento altera. Come vedete ha la forma di un pennello possiamo modificare la dimensione di questa punta diciamo facendo due volte clic sull'icona dello strumento e in questo caso abbiamo accesso alle opzioni modifichiamo quindi la larghezza e l'altezza per ora mi vanno bene così queste impostazioni quindi clicchiamo sul pulsante ok. Ora cerchiamo di deformare l'oggetto quindi facciamo click e trasciniamo come vedete la deformazione però si applica soltanto sulla forma quindi sulla forma del polipo questo perché lo strumento altera non è in grado di deformare direttamente i testi che siano ancora editabili per dimostrarvelo ulteriormente faccio una selezione di tutto l'oggetto quindi sia del polipo che dei testi prendiamo lo strumento altera e cerchiamo di deformare ecco che illustrator ci avverte il disegno selezionato contiene del testo che deve essere convertito in contorni prima di poter essere usato questo però va contro il nostro principio secondo il quale noi non vogliamo perdere l'editabilità dei testi e allora anche in questo caso c'è un trucco ovvero andiamo a utilizzare la distorsione involucro con trama quindi andiamo ad inserire tutto il nostro oggetto all'interno di una trama e dopodiché utilizzando lo strumento altera non deformiamo direttamente il testo ma deformiamo la trama che lo contiene ecco che in questo modo è possibile effettuare delle deformazioni ancora più estreme ancora più forti chiaramente io ho selezionato tutto cioè sia il testo che che il polipo ma voi potete tranquillamente applicare la trama soltanto al al testo ancora una volta se volessi editare il contenuto quindi in questo caso il testo clicchiamo sul pulsante modifica il contenuto prendiamo lo strumento di trasformazione testo clicchiamo e selezioniamo il testo e modifichiamo ad esempio la data ora io ho fatto un lavoro un pochettino più preciso le forme comprese anche i testi contenuti nel mio documento di illustrator senza perdere la possibilità di editarli quindi di modificarli anche all'ultimo minuto grazie e alla prossima